Il colore è sempre stato un elemento determinante nel mio modo di concepire il lavoro. Può essere successo spesso nel mio lavoro di partire da delle immagini abbastanza quotidiane e poi di renderle speciali attraverso il colore. Dunque, questo è il lavoro che è ispirato a una grotta dell'acquario di Genova. Per cui ho preso questa immagine e ho voluto dare questa sensazione di viaggio nell'acqua. Questo quadro è particolare perché è fatto tutto con un colore solo e le variazioni cromatiche sono dovute soltanto al fatto che il colore è diluito in maniera diversa. La tela è una tela di lino bianca, è usata un po' come se fosse il supporto per una tecnica all'acquarello, per cui il colore diluito permette che il bianco della tela emerga, per cui la luce non è mai ottenuta attraverso la sovrapposizione di un tono più chiaro, ma attraverso la trasparenza del colore. Il rapporto col colore è un rapporto molto articolato, nel senso che poi dopo un certo punto mi è successo che ho avuto l'esigenza di privarmi del colore. Per cui ho usato delle variazioni sul nero e ho provato a capire se era possibile riuscire a realizzare delle opere usando soltanto il nero. Mi è capitato spesso di affrontare il tema del colore pensando in termini di sottrazione. Per il mio recente lavoro, molto importante, è una mostra che ho fatto alla Galleria d'Arte Moderna di Udine, una mostra che poi è andata a Bolzano e a Francoforte e ha girato in tre sedi diverse ed era una mostra di incisioni. L'incisione è un mezzo che oggi è completamente dimenticato, io lo ritengo un mezzo straordinario. Allora in quel caso avevo lavorato con uno stampatore di Udine che si chiama Corrado Abicocco, che è uno stampatore eccezionale, sono degli artigiani estremamente affascinanti, perché appartengono a un mondo che sta un po' scomparendo, eppure hanno come una fede e una dignità superlativa nel loro lavoro. Perimitando con lui ho scoperto questa tecnica del carborundum, crea questa superficie per cui il risultato dell'opera resta di un nero estremamente vellutato. In realtà affrontare il lavoro attraverso il colore significa che uno ci entra lentamente. Uno dei problemi che mi ha sempre interessato nel lavoro di un artista è il problema dell'evoluzione. Per quello che a me interessa anche frequentare degli artisti, seguire il loro lavoro, capire come un artista il passaggio di un'opera all'altra. Il mio lavoro riguarda sostanzialmente la natura. Ho sempre affrontato dei temi che partono da luoghi che io ho visto. E quindi una riflessione sul tema della natura, sul tema del paesaggio. Difficilmente tu vedrai una mia mostra in cui vedi dei quadri, diciamo che hanno una direzione piuttosto che un'altra, ma in genere c'è uno spirito d'assieme. Allora,